Un'occasione per le imprese, un'opportunità per gli studenti. Stiamo parlando del sistema duale e della preziosa risorsa rappresentata dall'apprendistato. Al centro oggi di un incontro formativo che l'ente di formazione IRIGEM ha dedicato ai professionisti del settore acconciatura. Professionisti che proprio IRIGEM forma e prepara nella sua sede di Viali dei Martiri a Bassano. L'obiettivo principe di questo sistema duale sta proprio nel dare l'opportunità ai ragazzi di inserirsi già all'interno del mondo del lavoro. Ma soprattutto dà all'azienda l'opportunità di investire e di crescere l'apprendista secondo le caratteristiche di cui lui ha bisogno. Non uno stagio tradizionale dunque, ma un vero e proprio ingresso nel mondo del lavoro anticipato già durante gli anni di scuola. Un vantaggio per i ragazzi che hanno la possibilità di toccare con mano il loro futuro, ma anche per le imprese che oggi hanno avuto modo di sentire direttamente vecchie opere nell'ambito della formazione, le caratteristiche del sistema e di conoscere meglio tutti i vantaggi, anche quelli fiscali, di inserire un apprendista nei loro saloni. Per il datore di lavoro sono tanti i vantaggi perché innanzitutto hanno un dipendente e non un tirocinante. Quindi hanno una persona che deve rispettare le regole e comunque imparare qualcosa professionalmente perché se il datore di lavoro non è contento dell'apprendista comunque ha la possibilità di ricevere tranquillamente il contratto. Quindi anche per il ragazzo è un impegno più costante, più formativo. Ancora poco conosciuto, il sistema di apprendimento duale rappresenta sicuramente una nuova frontiera. Sicuramente il futuro, siamo convinti che fra dieci anni, non so se ci ricorderemo neanche, che c'è un'istage di lavoro, se no tutti apprendisti in duale. No, oggi parliamo di acconciatura, ma ovviamente vale anche per altri ambiti professionali. Vale per tutti i settori di attività.